Ben trovate cari amiche, ben trovati cari amici, quest'oggi un nuovo appuntamento di Rubino Immobiliare News, sono con Gaetano D'Alba, uno dei titolari, ben trovato. Buon pomeriggio, ben trovati a tutti. Allora Gaetano, ci avviciniamo alla bella stagione, che per fortuna in Puglia dura anche tanti mesi, quindi come dire, abbiamo tanto tempo per poterci godere una natura incontaminata laddove si può e soprattutto dei momenti di assoluto relax. Uno degli impatti degli ultimi anni sul mercato immobiliare è stata l'evoluzione turistica, innanzitutto del capoluogo, innanzitutto di Bari, ma anche delle città sulla costa, insomma, un po' anche nell'entroterra, ma principalmente Bari, le città a sud, fino alla tua amata Monopolo. Questo crea in realtà un'opportunità per chi ha una casa da vendere, perché potrebbe venderla a chi vuole iniziare un'attività. Ti è già capitato qualche caso? Beh sì, tantissimi casi di proprietari che avevano degli immobili e avevano bisogno di monetizzare, si sono affidati a noi proprio perché abbiamo tantissima richiesta da chi ha dei risparmi in banca e che non rendono, sono poco ereditizi e quindi hanno preferito investire sul mattone, soprattutto nelle località turistiche, dove è più facile locare l'immobile ai turisti, che, insomma, provengono oramai da tutto il mondo, perché, insomma, l'Apulio oramai è una regione ambita. Questo ci consente di avere sia degli investitori nazionali che degli investitori stranieri, no? Ti capita anche questo? Sì, sì, diciamo che gli investitori sono locali, sono da fuori regione, insomma, anche dal nord Italia e soprattutto anche dall'estero, quindi abbiamo gli investitori che arriva da ogni dove. E che punta a questo punto a riutilizzare l'appartamento nel centro storico di questo o di quel paese, faccio per dire, come una struttura ricettiva ai tempi in cui il bed and breakfast è forse la modalità più ricercata, però ormai per andare in vacanza. Sì, sì, certamente, insomma, anzi, noi che operiamo nel settore giornalmente ci pervengono richieste per l'affitto breve, insomma, per il weekend, per la settimana. Quindi consigliamo chi vuole vendere oggi in queste località un immobile di farlo quanto prima, perché è un momento… Potrebbe vendere a un prezzo turistico. Potrebbe vendere a un prezzo turistico, sì. Senti, c'è una terza via tra tenersi un immobile che non produce reddito, venderlo e, come dire, guadagnarci una volta e basta, e invece una terza opportunità che consente di tenerselo e di guadagnare, non tantissimo subito, ma in maniera costante. Certamente, invece di venderlo potrebbe tenerselo, affidarsi a degli operatori come noi abbiamo una struttura che fa capo all'organizzazione immobiliare Rubino, locazione OK, la quale gestisce l'immobile dall'arredo, dal check-in, dal check-out, con personale competente in grado di poter soddisfare tutte le esigenze. Anche perché, Gaetano, se io faccio il giornalista domani non posso svegliarmi albergatore. Assolutamente no, è una materia complessa quella dell'albergatore, quindi non si può improvvisare, assolutamente. Ci sono tante questioni da conoscere, inconvenienze amministrative, burocratiche, più, come dicevi giustamente tu, la gestione proprio del lavoro, cioè degli ospiti. È una vera e propria attività, bisogna dedicare tempo e competenze, non si può improvvisare. Non si può improvvisare, anche lingue, appunto, in un contesto internazionale che quindi consenta. Certo, la domanda arriva, insomma. Mi immagino, ti chiedo conforto su questo, anche nella promozione stesso dell'appartamento, dell'unità immobiliare. Non si può certo pensare di promuoverlo col passaparola. Assolutamente no, bisogna ovviamente conoscere tutti i canali pubblicitari, quelli che utilizzano i turisti per la ricerca della casa vacanze. Certo, quindi ne varie piattaforme che conosciamo tu, che conosciamo abbastanza tutti. Va bene, grazie Gaetano per essere stato con noi, alla prossima. Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.